governo? La stabilità del governo non è assolutamente in discussione, sicuramente il tema dello Ius Skolle come lo Ius Soli non è un tema all'ordine del giorno dei tre partiti di maggioranza perché in realtà nessuno dei tre partiti lo ha inserito dall'inizio nel proprio programma elettorale, quindi indubbiamente se ne può discutere, il tema fondamentale però è che sicuramente non è una priorità, del resto si parla di questi temi da nove anni proprio nel dibattito parlamentare e non è mai stato fatto nulla, ricordo che il governo Gentiloni nel 2017 fece mancare i numeri al Senato proprio per evitare che su questo tema cadesse quel governo, quindi evidentemente è chiaro a tutti che questa non è una priorità, tra l'altro l'Italia è una delle nazioni che più riconosce la cittadinanza rispetto a tutti gli altri paesi europei, altri paesi europei nei quali lo Ius Soli sostanzialmente non esiste se non in modo temperato e lì dove esisteva, faccio riferimento al Portogallo, si è tornati indietro perché evidentemente non ha funzionato, evidentemente non è un tema prioritario, direi che settembre ha invece un tema fondamentale che è quello della programmazione pluriennale che è una nuova forma di rendicontare e di gestire le risorse economiche dello Stato, credo che il governo sia concentrato più su questo che sul resto. E allora se non è una priorità,